Ciao a tutti in diretta mercoledì 20 ottobre alle 18.03 per raccontare chi era Marco Simoncelli che dieci anni dopo che purtroppo così tragicamente se n'è andato ha lasciato però un ricordo di sé strepitoso e è entrato nel cuore di tutti non soltanto dei motociclisti lo sapete noi vogliamo raccontare chi era perché gli abbiamo voluto così tanto bene perché ha colpito tanto la fantasia affezionato un buco di gente e lo facciamo e naturalmente non sono da solo c'è Giovanni Zamagni ovviamente ciao Giovanni ciao ciao Nico ciao a tutti e poi abbiamo chiamato Carlo Pernat che di Marco Simoncelli era il manager ciao ragazzi ciao a tutti piacere essere qua è certo anche per noi e infine Paolo Beltramo che è stato giornalista che lo ha più raccontato ciao Paolone ciao ciao a tutti i ragazzi che bello essere qua anche per una cosa brutta però ma certo infatti infatti vogliamo che più delle lacrime invece ci siano i sorrisi perché Marco ha lasciato un ricordo che è positivo che non è soltanto dramma tra l'altro aspettiamo che possa ricongiungersi con noi anche Paolo Simoncelli il papà di Marco lo farà a momenti speriamo che non ci siano problemi di connessione allora io la prima domanda la faccio a Carlo Pernat intanto saluto tutti quelli che già si sono collegati naturalmente se avrete domande particolari cercheremo di rispondere ma vedrete che risolveremo un po' tutte le vostre curiosità allora Carletto perché perché Marco è così amato cioè tu gli sei stato molto vicino anche se il tuo ruolo serio perché il suo manager però non so se vi prendevate sempre sul serio ma di fatto con lui ci si divertiva tanto ma guarda serio con me è una parola già sbagliata lo sai Nico perché io sono più un manager giocherellone no mi adego come un camaleonte sempre ai piloti che ho guarda Marco è piaciuto io ho usato sempre cinque parole non è forse la prima volta che lo dico per me avevo una capacità di essere normale e la capacità di essere normale secondo me alla fine paga sempre è chiaro che se è normale giusto paga di più se è normale sbagliato ma non esiste normale sbagliato secondo me la paghi di meno Marco era era lui così la differenza fra lui e Valentino per me era abbastanza profonda nonostante sembra molto simile no come due persone Valentino era più tra virgolette figlio di buona donna nel senso buono della parola no perché lui parlava al suocero perché il genero intendesse cioè era furbetto Marco era era vero nel senso che a volte esatto era diretto a volte anche un po' patachino nel senso buono della parola perché diceva anche delle cose belle logiche ma non corrette politicamente però questa capacità di essere normale secondo me ha sfondato il cuore di tutti la proprio la proprio aperto e la sua fondazione credo che sia una delle fondazioni più più cercate più cliccate e più pagate del mondo con poi qui sono stata la tua idea però sì beh ma sai eravamo una sera quando io ero che siamo tornati purtroppo da quei giorni nefasti sono stato un po' di giorni a casa di Paolo e mi era venuto a mente di fare la la fondazione che Paolo e Rossella avevano detto ma che cos'è ma che non preoccupatevi sai venivamo un po' da quel discorso di sé nei tempi della Cagiva no un pochettino che Nicolo sa anche te Paolo e in due minuti l'abbiamo cioè due minuti l'idea è venuta poi farla ci abbiamo messo otto mesi perché puoi immaginare la burocrazia di agenzia delle entrate di cose che cose per fare un lusso era una cosa incredibile e io gli avevo anche detto ragazzi dovrete anche assumere della gente che non mi credevano alla faccia che hanno dovuto assumere della gente è un'azienda benefica forse una delle più grandi del mondo sono molto contento di quell'idea poi Carlo ci dici qual è l'opera più bella no che è stata poi alla fine costruita lì a Coriano io tanto per per sottolineare il SIC campione del mondo della 250 nel 2008 e poi MotoGP due stagioni che si annunciavano la seconda straordinaria lo sapete ha perso la vita nella penultima prova di quell'anno era il 23 ottobre del 2011 e il decennale cadrebbe sabato ma naturalmente non siamo voluti entrare nel gran premio a Misano e l'abbiamo voluto fare con un certo anticipo perché poi tutti i costoro che vedete qua anche Paolo Simoncelli che spero arriverà hanno un ruolo dentro lì dunque devono impegnarsi a fondo Zam prima di Paolone cos'era Marco Simoncelli per te tu hai raccontato a fondo le sue gare ma è quello che ha detto caroletto Perdat credo che sia la definizione più giusta era veramente un ragazzo normale un ragazzo semplicissimo un ragazzo con il quale era piacevolissimo parlare e anche confrontarsi e non sempre andavamo d'accordo come tu con tutte le persone ed era bello il confronto era bello perché era sempre diretto era sempre comunque rispettoso uno dell'altro era piacevole era divertente finiva quasi sempre con una battuta quindi questo era era bello io ho solo mi ricordo che insomma io in qualche maniera sono vicino ad Andrea Dovizioso che in quegli anni era il suo uno dei suoi rivali no uno dei suoi rivali diretti non soltanto come come rivali in pista ma proprio insomma i due non non si amavano diciamo così no dalle minimoto e io come non so come un fratello maggiore di tutte e due mi mi piaceva in qualche maniera provare a farli andare d'accordo no questa roba qua e una volta Marco mi ha detto ma perché mi fai sta pugnetta era bello era bello perché è capito io volevo fare il buonista tutti i costi ma che bello e invece lui ma in senso positivo comunque senza nessuno d'accordo quindi mi piace raccontare questa cosa che questo posso metterci una posso poi non parlo più ci posso me prima di paolo scusa paolone ti metto anche una cosa in più pensa tu hai detto una cosa giusta erano molto rivali Dovizioso e Simonceri ma tantissimo no beh io ti posso garantire che il primo che arrivò in casa di paolo due giorni dopo fu proprio Andrea Dovizioso ero presente io si abbracciarono tutte e due ti posso garantire che due lacrime scesero sia da una parte che dall'altra va dato ad Andrea che fu il primo ad arrivare a fare questo a me per il libro ai paolo scusa che disse cioè che raccontò poi dopo la la sua storia c'è il nostro sicce l'ho scritto io però è il libro del di paolo di rossella Dovizioso raccontò che quando erano nelle mili moto e vedevano questo bambino cioè Marco che andava in giro per il paddocka mano nella mano col suo papà diceva guarda un po' che sfigato così hai capito poi ha avuto una figlia ha detto mi piacerebbe che succedesse la stessa cosa con me quindi ha alla fine ha come dire capito e apprezzato lo spirito di Marco che secondo me era bello soprattutto perché era consapevole di essere fortunato di essere felice di di fare qualcosa che che non a tutti capita cioè tu nella vita sogni di diventare un pilota lo diventi vai forte guadagni abbastanza tanto perché con un manager come carletto qualche soldino si può arrivare sì sì e ti diverti rimani normale hai gli stessi amici di prima e continui ad aumentarne ma non trascuri mai nessuno sei divertente e soprattutto sei consapevole di questa di questa tua fortuna e secondo me è la cosa più bella di Marco è che lui era consapevole di essere un privilegiato cioè come lo siamo stati come lo siamo noi voglio dire abbiamo fatto quello che ci piaceva lui ancora di più sì paolo appunto esprimeva la gioia di vivere e la gioia di fare quello che faceva e tu nel tuo libro hai raccontato un mucchio di aneddoti divertenti perché Marco era molto divertente ma qual è l'aneddoto che più ti piace perché meglio rappresenta no il suo carattere la sua esuberanza una volta quando scrivevamo il primo libro quindi nel 2009 vado da loro dormivo anche un po' lì per fare il libro insomma avevamo bisogno di tempo ci mettevano fretta e lui aveva appena preso la bmw m3 naturalmente manuale perché così potevi fare le rotonde in seconda e vabbè i traversi e queste cose qui vabbè andiamo da a imola perché se era rotto lo scafoide allora intanto chiacchieriamo e lui dice oh ti piace quindi come guarda secondo me questa qui non è un m3 quanto cos'è è un v8 4 e 2 420 cavalli no no secondo me io avevo avuto un m5 da 330 quindi secondo me va come andava la mia non ha 420 cavalli mi dispiace ma lei messa in sport a lui guarda si è in sport e poi smanetta schiaccia un bottone sport plus a quel punto lì è diventata la bestia che erano allora poi continua a smanettare io gli dico dai secondo me va bene così c'era da sistemare il bip quando fai o 50 o 130 dipende se ti piace in città o in autostrada a 320 mi sembrava che andasse che fosse abbastanza giusto ecco vabbè è uno dei tanti insomma aneddoti perché lui era troppo figo guarda una bellissima ma bellissima per dire proprio il carattere tornando da una serata media 7 e sai che c'è il parco laggiù parco lambro allora abbiamo fatto c'era una s abbiamo fatto un po di casino con le gomme credo lui più di me o più io di lui non lo so perché io la conoscevo certo punto facciamo tutto il rettilineo che porta in piazza udine esce fuori una macchina della polizia e mi ferma a me che ero più avanti io scendo eccetera lui si è fermato 30 metri dopo è sceso e è venuto lì non è andato via dicendo cazzo mi è andata di culo ecco cioè era cosa che avresti fatto non ti mollava nella difficoltà era non lo so solidale bel bello io non lo so cazzo ma mi manca da morire però poi sapeva anche scherzare perché una volta a me nico noi abbiamo fatto una una vacanza negli stati uniti l'ultimo anno no tu paolo lo sai siamo andati dal colorado fino all'arizona io e i genitori marco la 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 sorella e alcuni amici e ci siamo divertiti veramente un casino e tre quarti te lo posso garantire eh a un certo momento sai che io fumo come un turco no ero macchina avevamo delle macchine molto grosse no dei sub io ero con falsa per le due ragazze lui era con i suoi amici io cerco le sigarette e non le trovo ma porca e se incominciamo andare in crisi d'assinenza quando vai in crisi d'assinenza a certo momento supera la macchina mi guarda dal finestrino mentre sono lì incazzato come una bestia si è messo quattro sigarette nel naso tre nelle orecchie due in bocca ridendo ma la tutte fregate lui hai capito e va preso in giro in quel modo lì pensa come scherzare se fosse questo il motivo per cui sei ancora vivo carletta probabilmente perché fumo ancora intanto io saluto tutti quelli che già scrivano luca dice grande bel tramo ci manchi tv a bordo pista e poi c'ero soprattutto ci manca il sicce tutti lo dicono e c'è rene che dice era forte anche il superbike che ci ricordiamo benissimo nel 2009 quando a imola fu invitato a fare la con aprilia no e e seconda manche o terzo passando il compagno di squadra tale max piaggi all'ultima curva insomma mica da ridere ecco io racconto soltanto un aneddoto dopo vi ripasso la palla è la cosa che mi colpì perché fu divertentissimo anche se mi venne a rompere le balle mica male eravamo in una diretta su fuori giri dopo gara allora ma io non ero lì ero a distanza a milano era difficilissimo gestire lo studio con i piloti che invece erano in pista era molto difficile infatti non ha durato tanto però quella volta lì la due e mezzo lui correva in due e mezzo si corse quelle gare sprint sai interruzione di nuova interruzione su cinque sei otto giri mi ricordo e io dissi nella diretta lì lui era appena stato lì studio aveva raccontato la sua gara l'ha salutato e se n'era andata quando lui non c'era già più io dico sì però la gara sarà stata anche troppo breve però diciamo la verità nella gara delle 250 di solito si annoia è troppo lunga la gara delle 250 che fanno oggi quello incazzatissimo rientrò urlando dice dio buono proprio tu che il fatto mondiale mi viene a dire una cazzata come questa questa in diretta è non aveva non aveva paura di nessuno non aveva soggezione di nessuno a proposito di soggezione agli spagnoli ci ricordiamo no tirarono fuori un po il fatto lui era aggressivo sicuro era anche un po così esuberante fisicamente esuberante per cui pedrosa ma anche soprattutto lorenzo come bautista bautista e zam come qual era la tua opinione in quel caso cioè gli spagnoli un po di ragione l'avevano anche se gli dava soprattutto fastidio che andasse così forte ma ricordo il famoso episodio di le man con pedrosa che si veniva dalla polemica no innescata da ford lorenzo nel gambeo precedente a portimano lestorillo si correva allora in portogallo con uno scambio tra l'altro di battute molto divertenti in conferenza stampa del salvatore e mi ricordo che in quel periodo comunque e comunque lui era legato naturalmente al gruppo valentino rossi eccetera mi ricordo che alla vigilia del gran premio di francia nel pad e così che chiacchierava il padre gli avevano detto mi raccomando domani stai un po tranquillo però non esagerare perché insomma sei al centro dell'occhio del ciclone stai un po attento e infatti poi dopo in gara lui fece quell'entrata no quel sorpasso su pedrosa al mio modo di vedere da sanzionare come poi avvenne ma al di là di questo però era divertente che comunque lui sembrava alla vigilia aveva detto sì sì certo starò attento starò molto attento farò attenzione alemana o barcellona alemana e dopo lui fu costretto poi a barcellona ad andare con la scorta perché era stato minacciato eccetera eccetera però è la conseguenza di quell'episodio lì e fece la pol e fece la pol si a barcellona ecco lì alemana perché lui stava facendo questa grande rimonta no dall'elettrovia stava facendo una bellissima gara e si può aspettare un po e fece quel sorpasso lì con pedro però la cosa divertente è che alla vigilia proprio tutti quelli che gli erano vicino gli avevano detto mi raccomando stai attento non devi esagerare lui aveva detto sì 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 certo ma non ti ascoltava nemmeno e la tua e la sua diciamo il suo racconto ha detto di abbò pensato lo passo qui all'esterno e vanno e tutto il pubblico si alza in piedi o aspetto la prossima curva ma vaffanculo lo passo adesso certo così è cui è che poi lui adesso sono parolacce però vaffanculo per il sì c'era punto a capo cambiamo capitolo cioè era triste perché andava male una gara era lì poi certo punto c'era ma vaffanculo basta pensava quella dopo ed era tutto finito lì era un punto a capo no per lei ma paolo era anche tosto lui e ti ricordi che poi racconteremo non era solo simpatico era anche tanto tosto ecco dai era molto intelligente anche se sembrava un cazzo è un cavolo guarda era tanto tosto che io ricordo guarda quella volta paolo anche tutta l'avevo raccontata che dovevamo rifare il contratto con la hrc no si eravamo non vorrei dire mi sembrava un dia napoli sono repubblica indiana india napoli mi sembra e c'era sai quei uffici laggiù in fondo no e ci avevano convocato a giovedì per discutere il contratto degli anni a venire no con la onda hrc e c'era va e c'erano olivio suppo e nakamoto che erano quelli che gestivano tutto e c'è anche amato c'eravamo io paolo e marco e basta noi tre e a un certo momento nakamoto ha parlato con olivio gli ha fatto dire allora il prossimo anno state con noi però la tua squadra di adesso non ci sarà più e si è alzato che non l'ho mai visto così tosto incazzato e ha detto a suo padre a me andiamo via come andiamo via no andiamo via la mia squadra non si tocca o siamo andati via cioè di fronte all hrc che ti offriva un contratto di due anni con la moto ufficiale o lo sai che ci hanno seguito per 50 metri e l'indomani c'è una richiamata ha detto va allora la squadra è quella lì e ora discutiamo pensa un po che coraggio cioè bisogna essere tosti è appunto è bravo bisogna anche dirle queste cose e paolo perché io voglio ricordare che il circuito di santa monica è dedicato a lui dal 2012 che il numero 58 è stato ritirato naturalmente e però voglio ci sono domande giustamente sarebbe diventato l'anti marquez chiede thomas e allora vado con il prossimo argomento e dove sarebbe oggi sicce in moto gp cioè è chiaro è un esercizio di fantasia anche perché aveva appena cominciato però aveva fatto vedere grande talento grande pollo aveva fatte è certo aveva fatto le pole aveva fatto i podi e in australia la gara della domenica prima aveva fatto una spesa della corsa quindi sarebbe diventata mille la moto da 800 quindi avrebbe gli avrebbe dato meno problemi la sua stazza ecco per cui scusa nico no no prego partiamo da passiamo da zan partiamo da noi dove sarebbe non lo so sai che io su queste cose faccio molta fatica come dice paulone è vero che lui allora fino lì aveva faticato un po a dio la verità prendere in mano la moto gp perché lui comunque veniva da un campionato del mondo vinto della 250 un altro perso all'ultima gara esatto contro gli ama però ci si aspettava moltissimo da lui in moto gp e invece un po perché la moto all'inizio non era così competitiva un po per mancanza di esperienza insomma ci ha messo un pochino di più ad arrivare come dice paulone sono d'accordo con lui quando dice che l'arrivo delle mille sicuramente per lui sarebbe stato un vantaggio o meglio non sarebbe stato uno svantaggio come lo era la 800 rispetto ad altri piloti proprio in quell'anno lì nel 2011 aveva conquistato il suo primo podio moto gp prima un terzo posto poi il secondo posto in australia è chiaro che sembrava in grandissima crescita io però faccio fatica a dire dove sarebbe arrivato a noi piace pensare che sarebbe arrivato a giocarsi mondiali te lo dico io allora te lo dico io avrebbe vinto i due mondiali conseguenti di sicuro secondo me perché se li ha giocati pedrosa fino all'ultima gara e lui a pedrosa lo passava all'esterno quindi andava al doppio di pedrosa col mille poi sarebbe andato ancora di più al doppio pedrosa no dai paulone andava più forte però comunque secondo me lui si sarebbe avrebbe vinto i due mondiali dopo anche perché in hrc poi ci sarebbe andato lui marquez sarebbe andato da gresini cioè sarebbero cambiate un sacco di cosa questo sono d'accordo con paolo allora io la vedo così poi dopo no no paolo successo dopo ancora non lo so sono i primi due anni li avrebbe vinti lui allora che l'avrebbe vinti non lo so paolo penso che si sarebbe giocati quello sì per lui era il pupillo di nakamoto proprio lo sai meglio di me nakamoto non rideva mai quando vedeva marco non faceva altro che ridere io ho assistito alla discussione del contratto uno parlava giapponese l'altro romagnolo e rideva tutti e due e hanno fatto un contratto ci credo lo sai meglio di me lui si sarebbe giocato dei mondiali il fatto di vincere non lo so però è chiaro che essendo pupillo di nakamoto il suo posto era in acarici questo è evidente e quindi poi sai le cose lì non lo so aveva tutte le capacità di potersi giocare i mondiali questo lo penso anch'io c'è mattia che aggiunge io lo vedrei benissimo nell'attuale ducati fisicamente sarebbe stato perfetto altro esercizio di immaginazione però è vero no ma sì ma è chiaro che marco con la stanza che aveva e la cattiveria sportiva tra virgolette con cui guidava sulla ducati sarebbe sarebbe stata la ciliegina sulla torta ne sono convinto ma non adesso però perché adesso è piccola e lo so paolo però sai la ducati secondo me la mille con la mille avrebbe vinto il mondiale sì secondo me poi dopo per me è un pilota credimi paolo è un pilota che la ducati sarebbe stato perfetto sì sì tutti quelli che sono arrivati dopo stoner e dico io sarebbe stato quello che avrebbe guidato meglio secondo me il tiro di stoner sì e ti dico la verità possiamo anche svelare un segreto c'era anche un accordo con la ducati eh perché avevamo fatto eh avevamo fatto non dico un precontratto però prima di parlare con l'hrc la concorrenza era era onda ducati eh perché la ducati ti dico è un precontratto formale c'era paolo e tu lo sai poi dopo probabilmente avrebbe scelto hrc però c'era le due possibilità c'erano tutte e due paolo grazie sì sì zam in questi giorni a misano voi siete già lì eh tu dove sei carletto sei a misano nell'albergo di paolo simoncelli sai che era un albergo a gabice mare l'avevano comprato nel 2010 insieme a marco è un bellissimo albergo nuovo con sauna e c'è addirittura un murales di 50 metri in una parte dell'albergo illuminato esatto col sicci di piastrelle credo regalate da aziende bello cioè domani vado là anch'io e infatti ci sono aspettato io vi ricordo i gestori sono simpaticissimi esatto e poi vi ricordo che a Coriano c'è il museo naturalmente il nostro sicco meraviglioso perché è bellissimo dovete andare a vedere se siete a misano zami invece tu sei dove ti hanno messo non sei un cinque stelle lì no sono a riccione dai sono qui vicino sei sul monte sei a riccione insomma certo non è che posso andare non è che sei in nord corea ecco bravo volevo dirti zam in questi giorni sarà tanto tanto da fare dovrai sdoppiarti perché tra quello che succede in pista quello che succede fuori c'è di tutto e sarà ricordato come marco simoncelli anche fausto gresini che ci ha lasciato e io voglio chiedere a te no cioè fausto ha vissuto dei grandi drammi da team manager non è stato fortunato ha messo tanto umanità tanto entusiasmo tanta capacità è certo e non è stato premiato purtroppo però la moglie va avanti coi figli anzi il luca gresini girerà con la garelli 125 del titolo mondiale di fausto in pista bellissimo bello sì sabato sabato sera verrà fatto un ricordo sia di marco simoncelli sia di fausto gresini per quanto riguarda fausto gresini ci sarà appunto luca il figlio di fausto e il dovranno essere i due piloti del team gresini della moto 3 in realtà ce n'è uno solo perché rodrigo è infortunato non so se ci saranno anche quelli della moto 2 non mi ricordo comunque insomma faranno questo giro di pista in onore di fausto per ricordare fausto che come detto tu è veramente stato parecchio sfortunato perché è vero che ha vinto ciao ragazzi scusate ma ho avuto un problema a casa con le fogne con le fogne gli scarichi dei bagni è un disastro che stasera sono da te non vorrei sentire degli odori brutti abbiamo risolto abbiamo meno male paolo grazie mille di esserci perché noi sappiamo che questi giorni saranno per te molto impegnativi sia fisicamente emotivamente ma anche sportivamente perché tu è anche un team con due piloti moto 3 con suzuki e con stellò dunque voglio dire sei stra impegnato grazie di essere venuto noi abbiamo raccontato col sorriso sulle labbra perché perché marco questo ha lasciato soprattutto il sorriso ha contagiato la sua voglia di vivere e però a questo punto stavamo dicendo dove sarebbe adesso marco in moto gp a che punto sarebbe tu come te le immagini ma sicuramente col mille ci saremmo divertiti molto di più perché lui l'aveva provato in giappone ed era entusiasta meno problemi con il peso con soprattutto con la benzina che quella volta con l'ottocento c'erano i 21 litri doveva andare doveva partire con un po il rubinetto chiuso però niente sarebbe stato un grande ecco questo sicuramente ci saremmo divertiti tantissimo con i duelli con market perché avevano lo stesso modo di correre il modo di essere di pensare sono secondo me quindi una fisicità un'aggressività che insomma il moto gp può premiare anche se qualche volta determina delle delle situazioni un po a rischio sì però c'è da distinguere l'aggressività le scorrettezze sono da dividere perché adesso si sta facendo soprattutto in moto 3 stanno facendo confusione scorrettezze la cosa essere aggressivi è un altro certo no in moto 3 fanno scusami in moto 3 fa solo scorrettezze secondo me non fanno confusione è vero no no ma non da parte nostra diciamo secondo me la direzione gara che è latitante proprio lì lo diciamo spesso noi puniscono per delle stronzate non guardano le cose grandi e quello che è successo secondo me solo colpa loro perché si cominciavano a punire da dalle scorrettezze che ci sono state sul rettilineo di barcellona vedrà che queste cose ma soprattutto paolo scusami puniscono soltanto se c'è una conseguenza e ci voglio dire se io passo con il semaforo rosso per 25 punti sulla patente anche se non causa nessun incidente invece loro puniscono solamente se c'è una conseguenza non so se sei d'accordo guarda non è quel tipo il problema secondo me che bisogna mettere delle persone che abbiano il coraggio delle loro azioni questo è fondamentale io ce l'avrei un nome freddy spencer paolo paolo all'inizio qui si parlava della fondazione simoncelli e per nata raccontato come è nata e soprattutto abbiamo sottolineato il fatto che dopo dieci anni ancora c'è una passione una generosità il nome del sì c'è il 58 sono talmente forti per cui ancora un catalizzatore di generosità ecco a coreano avete inaugurato cos'è due anni fa la casa del sì che è bellissima sì beh comunque anche te sei uno di quelli perché ogni tanto mi dicono che ti vedono al passo della cisa certo sì abbiamo inaugurato quella casa che secondo me è bellissima ne sono orgoglioso io tutti noi della nostra famiglia quando andiamo lì che vediamo i ragazzi che sono in piscina che gioca a noi fanno che cavolo gli pare senza chiedere tanti permessi è molto bello per il retto andiamo avanti bravo mi ricordo il giorno dell'inaugurazione io feci col telefonino l'immagine della caduta del diciamo del velo no e poi l'ho messo su facebook cioè che 3 milioni 680 mila poi mi ha bloccato facebook normalmente ne facevo 15 25 al massimo 50 mila cioè il sì c'è dio boi sì c'è sì c'è ragazzi 3 milioni 680 mila poi mi ha bloccato anzi paolo io ricordo una cosa io dico eh adesso ci sono le dichiarazioni dei reliti del 5 per mille siccome quei soldi vanno persi dallo stato la fondazione simoncelli che è la cosa più giusta da dare datemi retta sì io lo do da sempre c'è moltissima gente che non sa che al 5 per mille lo tolgo anche se loro non dicono a chi darmi e questo bisognerebbe chiarirlo dunque la gente continua a seguirci noi continuiamo a spendere soldi degli altri spero bene adesso stiamo aiutando dei ragazzi una associazione di genitori di ragazzi autistici che per me sono un problema grossissimo non ma chi è che ti filma te pronto mi sentiamo che è arrivato è arrivata una chiamata solo per quello chi è che ti filma eh no fa da sé sono io sono io con le mie mani fa da sé sei tu da solo mi muovo troppo eh sembri Emilio con l'operatore di taglia 1 che era un po zoppo sai che barcollava un po no senti paolo ascolta prima di trascendere paolo volevo dirti prima si parlava del dovi e del fatto che quando facevate la minimoto ricordo che marco è stato campione italiano 12 anni minimoto e facevate la minimoto andavate sulle piste mano nella mano e qualcuno diceva ma guarda che strani e poi lo stesso dovi ha detto che bello invece adesso con mia figlia vorrei fare la stessa cosa che tipo di pilota era in minimoto il il marco era già esuberante e fisico o era differente o era timido non riesco a immaginarlo guarda ehm ti dico una cosa il marco è dovizioso che si odiavano tanto in moto cioè odiare tra virgolette sportivamente alla fine erano uguali avevano due modi completamente diversi di correre ma il loro obiettivo era lo stesso e ricordo ho letto tempo fa un libro in un intervisto in cui marco raccontava di quei tempi diceva volevo battere a tutti i costi il mio avversario era dovizioso non volevo battere tutti i costi ho letto un'intervista sullo stesso tema di di dovizioso e lui diceva il mio avversario era simoncelli lo volevo battere tutti i costi erano alla fine sono uguali uno soltanto che cosa è successo che marco ha sempre pesato tantissimo più degli altri e dovizioso era veramente piccolino da piccolo che pesava molto meno con quattro cavalli e mezzo era facile fare la differenza quindi diciamo di dovizioso non si è mai dovuto impegnare più di tanto in curva perché in rettilineo aveva quel vantaggio a quei tempi e marco invece doveva recuperare in curva quello che perdeva in rettilineo e questo è nato il modo di essere di correre che è lo stesso che è rimasto lo stesso da da grande come è rimasto lo stesso dovizioso pasini e te li potrei elencare tutti i corsi hanno tutti sono uguali a quando erano piccolini e questo è una cosa bellissima bello bello si a quando erano nel camioncino dei piloti dei piloti bambini no beh direi che dovizioso era veramente anche lui viene dalla galetta come abbiamo come noi e il babbo che era un crossista era abituato a dormire nel camion e lui dormiva spesso nel camion cioè lui faceva proprio la vita da rider puro insomma però cazzo questi bambini erano veramente belli poi è stato un periodo delle mini moto bellissimo perché c'erano tutti quelli i piloti di adesso qualcuno ha anche smesso e vengono tutti dalle mini moto da quel gruppo lì è stupendo guarda comunque nel camion ci dormivo anch'io negli anni 70 alla fine primi anni 80 ed era bellissimo allora perché era era il paddock poi tu paolone era abituato a dormire in tenda con gli lupetti io ero il tuo capo quindi non era un problema è vero lui è stato il mio capo dei lupetti giuro giuro si è la prima gara che ho visto del mondiale mi ha portato lui nel 76 al mugello certo certo e paolo a proposito di incontri importanti nella vita ma lo chiedo a tutti voi qual è stata la figura più importante ma viene in mente a ligi de ganello che in due e mezzo gli ha fatto lo ha portato in alto c'è qualche altra figura comincio da paolo simoncelli e poi gli altri beh guarda direi che siamo partiti con il babbo poi in quei momenti bruttissimi dell'anno e 250 con brazzi ero sempre io e gli si ha dato una mano direi anche malabrocca non so se malabrocca il soprannome di un meccanico si chiama raffaelli sanzio che lavora oggi tutto con me nella squadra corse e lui era un po il guru di marco in quei momenti difficilissimi dopo abbiamo avuto la fortuna di fare costruire questa squadra con aligi e lì lì si è creato un binomio eccezionale una squadra strettissima e poi da lì è nato tutto insomma dopo il resto quando marco era posto con le persone attorno il resto era tutto più facile per lui assolutamente paolo fernat secondo per lato di trocchia guarda io vabbè è chiaro che quando poi sei sui campi di gara vedi piloti e chiara come si faceva io non ero ancora con marco però chiaro che quando lo vedevi e dicevi magari questo pilota mi cercasse è capitato paolo lo sa non mi ricordo se eravamo nel bar della turchia o della cina che si avvicinò paolo con questo paio di baffi e marco e mi dissero ma cosa ne dici di lavorare assieme e io dentro di me non ero che ero felice mi scoppiavo di felicità però ho fatto un po come dice paolo figlio androcchi ho detto ma vabbè dai vediamo ne parliamo fra dieci giorni guarda io ho già detto di sì praticamente mi ricordo benissimo è stato in turchia è vero in ma al maven pic e devo dire che mi sono avvicinato a te dopo aver parlato con marco perché mi sono reso conto in quei momenti un po difficili che quello che diceva il babbo i genitori non valeva un cazzo nel senso che riconsiderate a quanto è un genitore retto non capisce un cazzo e ora ho capito che doveva parlare qualcun altro è capitato di parlare con me e dopo ci siamo rivolti a te anche se poi alla fine perna c'è stato un amico ed è un amico è stata una spalla importantissima poi diciamo le cose importanti se le fate da solo a pacchi sulle spalle quello sicuro paolo come sempre sempre e comunque con tutti e sì mi ricordo che poi ci rivedemmo dopo una settimana dieci giorni in autogrill a cremona se avevi un pulmino con una moto abito ma dai ci mettiamo assieme punto e li abbiamo incominciato a fare i nostri lavori dai no però marco era unico dai si pernate veramente una bella persona e non era mai difficile da gestire pernate marco non era mai difficile da gestire ma va era marco che gestiva noi era diverso ti posso garantire che la marco che gestiva noi no volevo chiedere a paolo simoncelli e la storia della 250 non ufficiale e il passaggio alla 250 ufficiale se ci puoi raccontare un po quel periodo che mi vuoi proprio fare incazzare stasera devi raccontare quello famoso discorso che abbiamo fatto con mercanti e sacchi raccontalo troppo non troppo lo facciamo è meglio che lo facciamo a voi te lo racconto volentieri però adesso che lo so è stato veramente un momento talmente brutto un momento però lì devo dire che siamo stati forti ecco abbiamo superato e l'unione lì ha fatto la forza senti ricordo noi abbiamo dato una mano direi l'opinione pubblica un po come cioè morbidelli di noi giornalisti ma sentite scusami paolo io ricordo con la meravigliosa poesia che aveva fatto la sorella e che aveva scritto io ho la moto ufficiale tu hai la moto ufficiale noi non abbiamo la moto ufficiale è bellissimo è bellissimo adesso voi ridete di quello io mi riferivo al momento prima di quel momento lì perché c'è stato un momento che avremmo avremmo potuto smettere di correre per colpa di braccio e lì c'è stato un momento che veramente io e Marco è stato durissimo e l'abbiamo risolto insieme veramente non voglio pensarci ma c'è ancora rabbia dentro per queste cose anche perché ma Paolo lì è la prima che le prime due gare del 2008 forse perché non era contento un attimo perché noi eravamo stati definiti noi Marco è stato definito da chi l'avevo voluto in aprilia un asino di 80 kg un somaro di 80 kg era troppo perché pesava meno di 80 kg però è stato un momento bruttissimo che abbiamo superato e poi ci siamo presi dei vinciti e dopo arriviamo a quello che dite voi moto ufficiale mercanti e tutte queste cose mamma mia quel giorno lì comunque secondo me tornando alla domanda originale il segreto che sta dietro a quello che era Marco quello che ha fatto Marco quello che è diventato stava diventando eh merito di Paolo di Rossella assolutamente dei valori della famiglia del fatto che lo abbiano lasciato lo abbiano seguito abbiamo fatto anche dei sacrifici grossi per fargli vivere il suo sogno e in un modo peraltro molto cioè dandogli dei valori cioè certe cose si fanno poi ci sono delle cose che non si fanno e basta punto comunque questo questo è il compito di tutti i genitori con i figli eh sì sì però tu ci sei riuscito e non c'è chi lo fa bene chi lo fa male eh Paolo non è proprio io ho avuto altri genitori con altri figli ti posso garantire che tanti valori non c'erano eh e non faccio né nomi né cognomi né indirizzo comunque Marco veramente adesso non perché fosse mio figlio ma era veramente un ragazzo normale era un figo della madonna normale era un ragazzo normale ma con tante qualità che sono arrivati di tutti io Nico mi ricordo un episodio bellissimo di cui te sei stato protagonista ti ricordi quando facevate quando facevate le trasmissioni subito dopo la gara l'ho raccontato poco fa forse l'ha raccontato come l'hai vissuto tu raccontano come l'hai vissuto tu ah guarda eh allora è stato bellissimo perché dopo le gare noi Marco veniva nel campo e mangiavamo la piadina e tranquillamente lui accendeva la televisione per seguire la vostra trasmissione no a certo punto siamo lì in giro non c'è più Marco che è sparito guardo gli occhi era in televisione sui titoli di cosa che se l'aveva a morte con Cereghini perché aveva detto perché c'era stata l'interruzione della gara del 125 aveva fatto la gara di 5 giri te l'ha detto e a Cereghini gli ha scappato detto beh le gare del 125 si possono fare anche di 5 giri a lui non gli è andato giù gli ha detto non capisco perché è uno che poi ha fatto il pilota devo dire queste cose ma era arrabbiatissimo Nico Contato la raccontata Nico Paolo la raccontata mi ha fatto anche una quando al Mugello quando ha vinto con Barberà che Barberà ha detto forse avrà aperto una gamba non so e lui ha corso lì ha detto tua sorella apri le gambe adesso da questa è risata che mi è venuta in mente la cosa scusate la voglio dire i 5 giri parlando di sicurezza non vanno assolutamente fatti in moto 3 perché vuol dire mandarli allo sbaraglio di ragazzi i 5 giri non devono esistere in moto 3 soprattutto ma neanche in moto 2 non lo so però i 5 giri sono veramente andati là e ammattati sono troppe intanto tranquillo che la volta ti sei preso un bel cicchetto eh lo so ma andate abituato Paolo ancora brucia io voglio tranquillizzare tutti quelli che sono collegati che magari non l'ha visto dall'inizio e dicono ma dove lo possiamo vedere lo potete rivedere sempre disponibile sul canale youtube di moto.it naturalmente quindi vedetevelo lì noi siamo partiti eh scherzando adesso io voglio chiudere eh chiedendo a Paolo cosa cosa farà in questi giorni perché il calendario è pieno e naturalmente a Misano in pista sul circuito sul Marco Simoncelli Circuit si vorrà ricordare in maniera eh opportuna giusta eh la figura di Marco che cosa farai? dove? come ti hanno coinvolti? mille cose Paolo no guarda mille cose le ho rifiutate tutte sarò presente in due cose soltanto in due eventi primo quello della quercia di Misano che l'ha chiamata la quercia del SIC ma questo c'ha un c'ha un retro perché Marco era un ragazzo che piaceva abbracciare la gente che poi è una malattia che ha attaccato anche a me perché nell'abbraccio si sentono un sacco di cose Aldo Drudi diceva sempre che abbracciare Marco era come abbracciare suo nonno abbracciare un qualcosa che ti dava sicurezza che è una cosa che mi è rimasta un po' nella mente ma non solo a me anche mi ha fatto questo esempio anche dei ragazzi che andavano via in bicicletta con lui lo vedevano proprio come un qualcosa di forte di e l'ho sempre paragonato a una quercia anch'io quindi questo discorso della quercia mi è piaciuto tantissimo e sono contento fra l'altro ne ho piantate una grande in giardino anch'io così giusto bella e poi una quercia sarà piantata appunto alla curva della quercia voglio dire quindi bisogna dirlo sì e poi sarò presente alla sessione della fiamma che di solito si fa la domenica all'imbrunire lo faremo sabato all'imbrunire che mi sembra una cosa molto carina che farà il comune di Coriano bello quella scultura di Arcangelo Sassolino che spara la fiammata potente ogni settimana una volta alla settimana appunto la farete sabato che devo dire la credevo una stupidità invece è una cosa emozionantissima tutte le domeniche c'è sempre qualche persona che aspetta l'accensione è bellissimo è veramente emozionante anche perché da Coriano guardi le colline e il mare bellissimo sì è stato fatto in quel posto lì ma questo tutto grazie da Lino Daineso che è sempre a carico amante dell'arte moderna ma soprattutto legatissimo come tutti noi al SIC allora io per chiudere vorrei fare un ultimo giro un pensiero un qualsiasi cosa da parte di ciascuno di noi e poi salutiamo i tanti che si sono collegati ricordandovi appunto di riguardarlo sul canale youtube di moto.it partiamo dalla mia spalla tradizionale Giovanni sono senza parole intanto io mi emoziono sempre lo ammetto pubblicamente quando parlo in qualche maniera con Paolo Simoncelli perché veramente le ammiro ne ammiro assolutamente la la forza che ha da papà da papà di un bambino che va in minimoto mio bimbo ha nove anni è iniziato adesso e mi viene voglia sempre quando lo vedo di chiedergli consigli su cosa devo fare quindi è questo non riesco a dire altro sinceramente quindi se Paolo mi dai un consiglio lo accetto volentieri guardate cosa ho fatto io vieni qua vieni guarda ho preso il cic questo guarda che bello il cic ciao ecco perché volevo volevo qualcosa che ci chiamasse Sici da poter abbracciare e allora ho preso lui ciao Sici fagli crescere i capelli però Paolo fagli crescere i capelli per letto pernati ma guarda io avendo conosciuto Marco io ho provato a fare come lui a avere la capacità di essere normale non ci sono ancora riuscito e penso che non ci riuscirò mai come ha fatto Marco che è entrato nei cuori per questa roba qua l'ho già detto prima e l'ho rivisto giusto Paolo Paolo Beltramo è un po' troppo eccolo qui guarda dai bellissimo è simpatico carino bello ciao Cici ecco l'avevo messo fuori però l'ho dovuto l'ho fatto entrare dai eh Paolone bello 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 ho chiesto a lui il permesso se potevo chiamarlo Cici giusto perché perché è un valore cioè avevo voglia di poter abbracciare Cici di nuovo certo bravo Paolo se ti può consolare domenica ero a Sant'Angelo l'invado in mezzo al pubblico c'era un cane che si chiamava Cici con tanto di guinzaglio marchiato anche lui c'ha la cosina allora Paolo Simoncelli chiedo a te di chiudere questa diretta ti ringraziamo moltissimo anche se hai avuto problemi con le formine mi dispiace perché ho avuto problemi però è stato bello a vedere tutti voi così che parlate ancora di Marco e che noi che l'abbiamo vissuto perché in fondo l'avete vissuto un po' tutti beh questo mi commuove mi piace mi fa sentire orgoglioso bravo e che noi siamo orgogliosi di averlo conosciuto noi è stata una fortuna pazzesca essere amico conoscere abbracciare uno come Marco è così è così e allora prima di essere sopraffatti dall'emozione dai un abbraccio a tutti ringrazio moltissimo a tutti i lettori che ci hanno seguito fino a qui e tutti quelli che ci seguiranno era una cosa che volevamo fare perché Marco se la meritava e perché cadono i dieci anni giusto sabato ed è nei nostri cuori grazie a Paolo Simoncelli a Carlo Pernat a Paolo e a Giovanni di Zamagno ciao Paolo un saluto dalla mamma del Sitz grazie ciao Rossella ciao Rossella ciao Rossella ciao buon appetito quando la Rossella dopo ti mangia bene di qua no no si mangia bene di là non si mangia bene mi raccomando ciao ciao Rossella ciao Paolo ciao buona serata ciao ciao Carletto ciao a tutti ciao ragazzi un bacione a tutti ciao ciao bella ciao grazie Camilla ciao Capolupetto ciao ciao